Numeri importanti di visitatori e di partecipanti con oltre 280 quadrupedi hanno decretato anche quest'anno il successo della mostra nazionale del cavallo bardigiano edizione numero 38. Il comune di Bardi ha organizzato per sabato prossimo 11 agosto la prima edizione del mercatino del biologico con prodotti della terra, della vigna, dell'artigianato, del vetro e della pietra. Dal 10 al 24 agosto la Croce Rossa di Bedogna si avvarrà del prezioso contributo di un infermiere volontario che affiancherà nei giorni feriali i militi e il medico sia in sede che nelle uscite. Il romanzo La nobile donna di Giuseppe Marletta verrà presentato a Pontremoli venerdì sera all'interno dell'importante rassegna letteraria Salotto d'Europa. Estate di novità per il basket borgotarese, le due società Valtarese 2000 e Valtarese Palla Canestro hanno deciso infatti di unire le forze e le risorse per dar vita ad un progetto corale di fusione. Buonasera telespettatori di RTA ben ritrovati al telegiornale. 280 cavalli presenti e migliaia migliaia di visitatori. Dunque riconfermato il grande successo anche per la 38esima edizione della mostra nazionale del cavallo bardigiano che si è tenuta per meglio dire lo scorso fine settimana a Lago Monti di Bardi. Una manifestazione in forze per molto tempo perché c'era un'agitazione in corso ma poi insomma la buona volontà ha prevalso su tutto e la manifestazione si è tenuta come vi dicevo con grandi numeri. Vincere la 38esima edizione della mostra nazionale del cavallo bardigiano selvaggia dei fratelli del Molino. Vincere la 38esima edizione della mostra nazionale del cavallo bardigiano Vincere la 38esima edizione della mostra nazionale del cavallo bardigiano si è rivelata come sempre un grande successo. Un'edizione che era stata messa in difficoltà dall'agitazione sindacale proclamata dai dipendenti dell'associazione provinciale allevatori che temono per il proprio posto di lavoro a causa della riduzione di personale che l'associazione stessa è stata costretta a programmare dopo il taglio dei contributi decretato dal governo Monti. Tuttavia uno sforzo di buona volontà da parte di tutti ha permesso almeno temporaneamente di superare le difficoltà e i dipendenti dell'APA hanno dato il proprio fondamentale contributo allo svolgimento della manifestazione. Abbiamo cercato di andare incontro alle loro esigenze ma non solo per quanto riguarda la fiera del cavallo bardigiano ma soprattutto per il loro futuro. Abbiamo istituito una sorta di gruppo di lavoro per cercare di dare nuovi servizi o comunque di migliorare quelli presenti sul territorio con il supporto dei dipendenti per far sì che venga ridotta al massimo il disagio verso il lavoro dei dipendenti stessi. L'evento ha quindi potuto svolgersi con la formula consueta facendo registrare la partecipazione di ben 280 quadrupedi. I cavalli sempre più belli nelle categorie di 1, 2, 3 anni, cioè quelle che rappresentano il futuro di selezione della razza abbiamo visto dei soggetti veramente notevoli. Come quantità siamo sulla norma dei cavalli degli anni scorsi. Devo dire che fra l'altro questo mi rende molto soddisfatto perché sono venuti meno i contributi del Ministero per quanto riguarda il rimborso dei trasporti e quindi la gente è venuta a proprie spese, unicamente a proprie spese. Il fatto che ci sia stata la stessa numerosità di cavalli degli anni passati mi rende molto molto felice perché sicuramente anche senza contributi ai trasporti questa fiera ha dimostrato di poter raggiungere il numero di cavalli solito e abituale. E proprio per premiare questa volontà di partecipazione il Lion Club Bar di Valceno ha voluto assegnare un riconoscimento all'allevatore italiano proveniente dal luogo più distante ovvero il signor Adriano Ongeri arrivato dalla provincia di Udine. Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa, speriamo che si protraga nel tempo e che anche per gli anni futuri la fiera abbia il giusto valore che nella Valceno riveste questa manifestazione. Tra il pubblico presente vi erano anche alcuni allevatori tedeschi venuti ad osservare i soggetti migliori della produzione italiana. Ricordo che esiste un'associazione tedesca del cavallo bardigiano, degli allevatori del cavallo bardigiano affiliata alla nostra associazione italiana, un'associazione che conta ormai più di 160 cavalli iscritti in Germania è un'ottantina di allevatori. Soddisfazione quindi per la riuscita di una manifestazione fondamentale nella promozione territoriale della Valceno. Bardi rappresenta la capitale di un evento importante come quello dedicato al cavallo bardigiano e il successo di pubblico, il successo di presenze di animali così belli e fieri. Peraltro abbiamo assistito anche a questa rappresentazione della situazione dei ragazzi che fanno parte del bardigiano sta a significare che veramente è un veicolo questo importante. Certo, un ulteriore modo per radicare le nostre realtà ad un fenomeno come questo che è importante si tratta di continuare sapendo che le difficoltà non mancano ma in questo caso c'è stata tanta volontà e tanto coraggio da parte degli organizzatori. Organizzatori che hanno saputo allestire ancora una volta tutta una serie di iniziative collaterali molto apprezzate dal pubblico. Abbiamo visto il cavallo bardigiano attaccato alla carrozza, usato nel volteggio, usato nell'equitazione acrobatica, usato nel lavoro in piano, usato nella monta da lavoro, usato con le redini lunghe, insomma tutte le possibili utilizzazioni del cavallo bardigiano che ne fanno proprio un cavallo estremamente versatile ed è uno dei punti di forza dei nostri cavalli. Si può certamente valorizzare questo animale in altre opportunità che un tempo ovviamente non erano pensate ma che oggi sono assolutamente utili, necessarie e anche indispensabili. Quindi il legame territorio-specificità, in questo caso una razza particolare come il bardigiano, sono anche un elemento di volano e di sviluppo per il territorio dal punto di vista turistico e culturale. Quindi sempre le specificità importanti possono essere opportunamente valorizzate e in questo caso è stato fatto e credo che nel tempo si potrà continuare a fare sempre meglio. Archiviata quindi l'edizione 2012 si comincia a pensare, non senza qualche preoccupazione, a quella del prossimo anno. Dobbiamo già tirarci sulle maniche e da settembre lavorare per il prossimo anno che sarà un anno delicato per i vari tagli lineari che continuano a colpire i nostri enti mettendoci sempre più in difficoltà. Questa è una critica forte che faccio come piccolo sindaco però è un momento troppo delicato e vorrei che le altre istituzioni capissero quello che stanno facendo. Rimaniamo a Bardi dove c'è una grande novità da segnalarvi. Il prossimo sabato 11 si terrà infatti la prima edizione del mercatino del biologico dalle 9 alle 18 per le vie del paese. Gli organizzatori tra cui il Comune, l'Associazione Culturale e il Cammino Valceno lo hanno realizzato pensando ai prodotti della terra e della vigna in questo caso con il coinvolgimento di alcune aziende importanti poi il settore alimentare, l'artigianato della pietra, del vimini, del legno e del vetro ed ancora artigianato casalingo, vecchi libri di vini e di cucina e infine avremo anche la presenza di musicisti Lilli e Antonio Amadei. Ovviamente gli organizzatori si aspettano una massiccia presenza. E ancora da Bardi da segnalare la terza festa dell'estate al Lago Monti l'11 di agosto con ingresso a 10 euro e prevendita 8 euro. Avremo dalle 22.30 DJ7, dalle 23 servizio navetta presso la cartoleria del Castello. Si alterneranno diversi DJ come Cocco DJ, DJ Rufus, Andrea e Savanta. E poi ci sarà la sorpresa di questa terza edizione ovvero la presenza come ospite di Jessica Fontana, Miss Parma 2012. Il Festival dell'Opera e dell'Operetta prosegue questa sera a Borgotaro alle ore 21 in Piazzetta La Quara con il Galà dell'Operetta che presenta Donne, Violini, Champagne. Per Valtaro Summer Music invece appuntamento sempre a Borgotaro come ogni anno da oggi fino al 10 agosto con la Master Class di Organo con la maestra Claudia Termini. E ora ci spostiamo a Bedogna perché c'è una novità molto importante ovvero quella di un infermiere volontario che sarà presente sia sulla Croce Rossa che in sede dal 10 al venerdì 24 agosto. Sentiamo. La Croce Rossa di Bedogna festeggia i 40 anni di vita mettendo in cantiere un progetto importante quanto ambizioso, quello dell'infermiere volontario estivo che affiancherà l'equipaggio di emergenza tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20, periodo di tempo in cui non è presente il medico di guardia ed i volontari si ritrovano ad operare senza un sanitario di supporto. Presterà la sua opera da venerdì 10 a venerdì 24 agosto periodo che da sempre vede un numero maggiore di presenze invallata grazie all'arrivo dei turisti. La nuova figura opererà anche nei comuni di Compiano e Tornolo che come Bedogna hanno un numero elevato di frazioni che distano parecchi chilometri dall'ospedale Santa Maria di Borgotaro e che quindi necessitano di interventi anche in emergenza. In questi casi l'infermiere si adopererà per potenziare e migliorare l'assistenza, collaborerà con l'equipaggio e sarà di supporto negli interventi di codice rosso o giallo, quelli più urgenti, ed infine tenterà di coordinare e ottimizzare il lavoro svolto dal mezzo di soccorso. Inoltre potrà anche svolgere la funzione di collegamento tra il luogo dell'intervento ed un successivo affido al mezzo di soccorso avanzato, ovvero l'automedica Borgotaro 30 con medico a bordo o l'elisoccorso. Quando invece sarà in sede aiuterà l'equipaggio della Croce Rossa ed aiuterà anche i volontari nel ripristino dei mezzi di emergenza e nel controllo dei presidi. Il suo ruolo però sarà anche quello importante di educatore sanitario e di primo soccorso. Potrà infatti avviare con la popolazione un percorso di questo tipo, un mini progetto che prevederà anche le spiegazioni di come funziona il servizio di emergenza e urgenza del 118 e come utilizzare al meglio. Infine sarà una figura importantissima per i volontari poiché sarà disponibile a trattare con loro le difficoltà e le criticità riscontrate nel corso degli interventi effettuati e potrà sanare dubbi e lacune, ripassare esercitazioni pratiche e manovre che durante un servizio molto spesso si devono affrontare. Un infermiere sul campo è in sede dunque che grazie alla sua professionalità affiancata quella dei volontari e dei medici sarà un valido supporto in più quando è necessario intervenire ed agire in modo veloce e professionale a volte in pochi minuti, preziosissimi e delicatissimi minuti ed interventi che salvano la vita.